Diciamo che potremmo forse finire l'ultimo set in maniera diversa, perché comunque avevamo lottato gli altri set e sarebbe stato bello lottare anche l'ultimo set, però poi lì ha prevalso la loro bravura, comunque sono fortissime. Sapevamo che sarebbe stata dura, siamo entrate con l'obiettivo di divertirci, di far bene le nostre cose, infatti si è visto comunque, le abbiamo messe anche un pochino in difficoltà, quindi siamo contenti e soddisfatte. Un set pari, 13 a 10 per voi, poi è arrivato il parziale loro, impressionante, e lì ci avete davvero creduto di poter essere le prime a strappare almeno un punto a questa carrozzata. Eh sì, lì sì, le mi hanno detto, ragazzi, ancora un set, almeno un punto a Panigliano e glielo prendiamo. Poi ovviamente loro, purtroppo di un altro livello, sono veramente superforti, quindi tanto merito a loro e tanto merito anche a noi, perché comunque abbiamo lottato tanto.